tra l'altro scusa Francesco poi ci torniamo subito allora lo sport in Lisbona vuole Luis Enrique ma lui chiede troppo cioè si permette anche di chiedere del danaro ragazzi Luis Enrique a Roma e alla Roma l'ha premuta bene con il suo ingaggio e tutti i vari collaboratori che poi sono andati nel corso del tempo è abituato è solo che la vigna dei coglioni canale